nuovo video vi presento un'altra calla del mio promontorio oggi vi faccio conoscere i sassi verdi come dice il nome e come vedete in foto la particolarità di questa spiaggia sono appunto dei sassi di scogli completamente verdi uno spettacolo muzzafiato che mi sono goduta in completa solitudine perché appunto quando sono andata io non c'era assolutamente nessuno vi lascio le foto e video su bajo e ciao a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.